Per potersi freggiare della denominazione di origine protetta, la tinca gobba dorata del pianalto di Poirino deve essere allevata seguendo un rigido disciplinare che lascia molto spazio alla natura e poco all'intervento dell'uomo. La tinca si riproduce da sola nella peschiera ma si possono anche effettuare ripopolamenti con avannotti dello stesso ceppo. I piccoli avannotti se pescati accidentalmente vengono rimessi subito in acqua così come le tinchette che non hanno ancora raggiunto la taglia commerciale di 16-18 cm. Per l'allevamento della tinca devono essere utilizzati stagni scavati apposta nell'argilla oppure già in uso dove le sponde non possono essere diserbate con prodotti chimici. L'alimentazione delle tinche è naturale. I pesci si cibano dello zooplantone delle larve di insetti che vivono tra le erbe acquatiche. Durante la fase d'ingrasso si fa ricorso un'alimentazione con proteine di origine vegetale tra cui primeggia la rottura di mais ma possono essere foraggiate anche con avanzi di pane. Sono vietati i mangimi da OGM. Le acque un po' calcare che provengono dalle vene del Roero Monferrato e sgorgano nel Pianalto favoriscono l'ossificazione così come favoriscono la crescita delle tinche che nelle temperature calde delle peschiere possono raggiungere la taglia commerciale già alla seconda estate di vita ma che consentono ai pesci di raggiungere anche taglie considerevoli in breve tempo.